Pescatore che vai sul mare, quanti pesci puoi pescare? Posso pescarne una barca piena, con un tonno e una balena. Ma quel che io cerco nella rete, forse voi non lo sapete. Ma quel che io cerco nella rete, forse voi non lo sapete. Cerco le scarpe del mio bambino, che va scalzo, poverino. Proprio oggi ne ho viste un paio, nella vetrina del calzolaio. Ma ce ne vogliono di sardine, per fare un paio di scarpine. Poi con due calamaretti, gli faremo i legaccetti.